I comuni della Valle Vestina, frontiera del disagio, problemi e prospettive nella gestione profughi. Di questo si è discusso principalmente a Loreto Prutino in un incontro organizzato dal capogruppo di Forza Italia in Regione Abruzzo, Lorenzo Sospiri, che ha visto la partecipazione di sindaci, amministratori e cittadini dell'area vestina. Un incontro per mettere al corrente i cittadini dei tanti problemi su cui versa l'area e programmare una serie di provvedimenti da prendere per far sì che questa torni ad essere la patria del buon vivere. E' anche doveroso dare conto ai cittadini di questa parte della provincia di Pescara, parte importante, l'Alta Valle Vestina, Loreto è un comune di grande rilevanza nella nostra storia, nella nostra vita agricola, enogastronomica ed industriale, di ciò che si sta facendo per cercare di contrastare tanti problemi che ha quest'area, da quello occupazionale a quello delle infrastrutture, a quello del dissesto ideologico, delle strade chiuse, delle fabbriche che vengono meno, della sanità con l'ospedale di penne che viene declassato. A questo si aggiunga anche una mini-invasione da parte di presunti profughi che spuntano in strutture dal giorno alla notte e praticamente in questo momento, così c'è un rapporto numerico che fa meglio comprendere, a Loreto ci sono ospitati più finti profughi di quelli che sono nella città di Pescara. Fatevi due conti, facciamoci insieme due conti e comprendiamo che evidentemente c'è esclusivamente una spinta a fare grandi affari sulla finta solidarietà che diventa insopportabile nel momento in cui tanti cittadini soffrono per vari problemi. Grazie a tutti.